Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata alla vicenda Liberi Consorzi. A Catania si è svolto un incontro tra il primo cittadino della città etnea Enzo Bianco e i comitati promotori delle iniziative per l'ingresso dei rispettivi comuni che hanno deliberato alla città metropolitana di Catania. L'approfondimento in questo servizio, vediamo. Sono stati ricevuti dal primo cittadino di Catania Enzo Bianco e i comitati di Gela, Piazza Armerina e Niscemi promotori dell'iniziativa a sostegno dell'ingresso dei rispettivi comuni nella città metropolitana di Catania. Filippo Franzone del comitato per lo sviluppo dell'area gelese. In questo momento queste tre comunità Gela, Piazza Armerina e Niscemi appunto si trovano in un limbo. Ci sono le ex province di appartenenza che cercano in qualche modo di ridurre i servizi in questo territorio. Dall'altra parte la città metropolitana di Catania non può fare una programmazione che include questi tre comuni perché ufficialmente ancora non è stato concluso l'iter. E quindi siamo andati da Bianco innanzitutto per chiedere la sua collaborazione a far sì che l'iter venga completato. Infatti abbiamo chiesto a Bianco che insieme ai sindaci di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, insieme ai tre comitati, il XAG, il pro-referendum di Piazza Armerina, i libri consorsi di Niscemi e la consulta di Niscemi, di andare appunto a parlare con il Presidente della Regione per far sì che quest'iter venga al più presto concluso. Quali sono gli atti sostanziali che mancano per completare questo definitivo passaggio di questi comuni alla città metropolitana, all'area metropolitana di Catania? Sono gli ultimi due passaggi che sono più una presa d'atto che una decisione vera e propria. Manca la delibera di giunta del Governo regionale la quale poi deve essere sottoposta all'esame all'ARS e quindi successivamente pubblicata in chiesetta ufficiale. A quel punto abbiamo concluso tutto l'iter, sia i comuni che la Regione, quindi ufficialmente potremmo dire di essere all'interno della città metropolitana di Catania. Che tempi potrebbero occorrere ancora? Se non ci fosse stato il problema del rimpasto della giunta regionale probabilmente avremmo già concluso l'iter. Riteniamo che ci vogliono soltanto delle settimane, ovviamente ora siamo sotto le festività natalizie, riteniamo che al massimo entro gennaio si dovrebbe concludere completamente tutto l'iter. E il sindaco Bianco invece intende intervenire? Che comportamento pensa di porre in essere? Il sindaco Bianco ci ha detto che lui è pronto e disponibile a collaborare con questa realtà già sin da ora. Infatti si è preso carico di alcune difficoltà che queste città stanno cominciando a subire, dai problemi ospedalieri che hanno ad esempio Piazza Almirino Niscemi, alla soppressione dell'ufficio IMS di Gere e quant'altro. Queste cose le abbiamo elencate a bianco e ha detto che lui dove può interverrà. Inoltre con Bianco abbiamo accennato di una programmazione futura per questi territori, abbiamo parlato di turismo, di portorità, abbiamo parlato di agricoltura e quant'altro. Abbiamo trovato finalmente un interlocutore con cui si dialoga ed è attento anche alle nostre iniziative. Il sindaco Bianco sta seguendo le criticità, la vertenza Gela ad esempio? Lui è attento un po' su tutto, segue anche la criticità della vertenza Gela, segue le varie problematiche di questi territori e speriamo che al più presto mettiamo un punto alle problematiche e iniziamo invece con la progettazione di questi territori. Libertà di pensiero è il primo giornale redatto dai detenuti della casa circondariale di Contrada Balate a Gela, diretta da Gabriella Di Franco. Vediamo. Libertà di pensare è il primo giornale redatto all'interno della casa circondariale di Contrada Balate a Gela, un magnifico progetto realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato Hauser insieme che si avvalsa delle competenze del navigato giornalista Rocco Cerro. Una delle note più significative consiste nel fatto che al primo numero del giornale hanno dato il loro contributo gli studenti dell'Istituto Tecnico Morselli, del liceo scientifico Elio Vittorini e del liceo classico Eschilo. Siamo pronti e disponibili a vari linguaggi. Il linguaggio del giornalismo è un linguaggio forbito per certi versi che avvia anche i detenuti a migliorarsi non solo in italiano, nell'espressione letterale, ma soprattutto si avvia a cogliere il punto fondamentale che è la cultura da libertà, rende liberi. Per questo libertà di pensare, liberi di pensare, questa è l'esposizione al giornalino, questo è l'obiettivo. È un'iniziativa che accolgo con grande entusiasmo e non è la prima perché questa manifestazione è stata preceduta a manifestazioni teatrali e d'altro. Tra l'altro io ho già letto il numero zero del giornalino. Questa esperienza che coinvolge non solo i detenuti ma anche la società civile di Gela è da accogliere con grande entusiasmo e favorevolmente e fa parte delle tante iniziative trattamentali che il direttore e gli operatori e non solo, anche il corpo di Polizia Municipale propone quotidianamente qui ai detenuti di Gela con grande entusiasmo. Sicuramente è un'esperienza di vita importante ma anche un'esperienza didattica fondamentale per gli alunni perché inseriti in un ambiente di apprendimento diverso dal solito, non la classica aula, perché come hanno detto gli stessi due alunni del liceo classico che hanno partecipato e Giulia e Andrea è stata un'esperienza forte. Cosa hanno tratto i nostri ragazzi? Beh, sicuramente nozioni di giornalismo di base che sono utili per la loro carriera scolastica ma soprattutto l'approccio con un mondo diverso, un mondo che a sentirlo raccontare non è quello che si vede di presenza e soprattutto un contatto diretto con chi vive la restrizione della libertà. Noi ci siamo proposti e di fare questa proposta abbiamo visto più di iniziato. Piano piano è maturata l'idea di fare un giornale interno e chi se non il dottor Cerro potrebbe essere d'aiuto. Lui ha accolto questa proposta in maniera entusiastica, siamo andati avanti e il risultato lo abbiamo sotto gli occhi con i giornali che vi abbiamo distribuito. Il giornale deve svolgere anche funzioni di questo tipo e ci siamo messi subito a disposizione con l'intera struttura del Corriere e oltre alle lezioni teoriche che abbiamo fatto qui da aprile ad oggi e continueremo abbiamo realizzato dei prodotti editoriali veri e propri fatti dai ragazzi che hanno partecipato al corso, i detenuti, che sono stati sempre molto attenti, puntuali e interessati, hanno scritto degli articoli. Il mio reparto mi consente di fare questo e anche altre attività che consentono di garantire maggiore sicurezza e di credere in quello che è un principio su cui noi fermamente siamo convinti e cioè che la cultura è il vero volano per interrompere i fenomeni di devianza. Questa iniziativa è stupenda come tutte le iniziative che i nostri volontari ci presentano e ci fanno come proposte. È bellissima perché facciamo entrare la comunità esterna anche attraverso i ragazzi dei licei che hanno partecipato in maniera attiva e meravigliosa quindi è un'attività cui ho tenuto moltissimo, tengo moltissimo e spero che non finisca mai. A sabato 19 dicembre l'amministrazione comunale commemorerà il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione caduto nella terza battaglia dell'Isonzio all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una messa in suo suffraggio sarà celebrata alle 10 presso la chiesa di San Francesco. Al termine le autorità si muoveranno in corteo verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà dove sarà deposta una corona dall'oro. Assessore, quale risoluzione per gli agricoltori che hanno terreni che insistono sulla piana di Gela e che purtroppo hanno patito il disagio della mancata irrigazione dei campi a causa della manutenzione alla diga Comunelli? Sì, allora si tratta di una grande emergenza creata con la necessità, devo dire con sincerità, di permettere agli agricoltori di avere l'acqua, quindi non interrompere il servizio partendo da febbraio in avanti. Evidentemente il prolungamento della stagione estiva, mettiamola così, quindi della condizione di siccità ha creato la necessità di dover comunque interrompere l'irrigazione per permettere il ripristino delle tubazioni della diga Comunelli creando al contempo i disagi agli agricoltori. Ecco, una grande emergenza che però attraverso un processo di sinergia e con molta intelligenza da parte dei funzionali regionali e dell'amministrazione del Consorzio è stata risolta anticipando l'erogazione dell'acqua che avviene oggi nell'emore di chiudere tutti i procedimenti necessari alla cessione delle reti. Quindi una boccata d'ossigeno per gli agricoltori che avevano visto in pericolo la raccolta? Sì, una boccata d'ossigeno anche in virtù del fatto che in realtà la diga è quasi piena e quindi comunque l'acqua dovrebbe essere smaltita e invece di essere gettata a mare viene utilizzata per dare ripristino alle culture degli agricoltori. Al via il progetto Keramos, inclusione, tradizione e innovazione per creare occupazione. L'iniziativa è dell'associazione Progetto H e prevede attività in laboratorio di ceramica. I particolari in questo servizio? Sono ambiziosi gli obiettivi dei promotori del progetto Keramos ricostruire gli utensili del passato per favorire l'integrazione e nuovi posti di lavoro. In sostanza realizzare un percorso di impresa sostenibile capace di coniugare l'aspetto tecnologico e competitivo con quello creativo e solidale in cui i giovani e meno giovani in cerca di occupazione provenienti da diverse realtà culturali, sociali e con abilità altre possano sviluppare e valorizzare con il supporto di professionisti le proprie capacità e competenze. Il progetto Keramos è il frutto di una rete sociale evoluta che ha un duplice scopo dall'altro quello di creare occupazione, dall'altro invece quello di creare un cambiamento culturale attorno al problema della disabilità e dell'educazione. Ci sono tantissime partner impegnate in questo progetto, speriamo tra qualche anno di raccogliere frutti con la creazione di una prima start-up dedicata alla creazione di prodotti di ceramica antica. Noi siamo ben lieti di poter partecipare a questa attività, questa iniziativa, questa iniziativa che oserei dire sistemica. Lo facciamo come Adi, abbiamo dato il contributo, il contributo in termini di patrocinio e daremo il nostro contributo anche nel workshop che nella fine dell'iniziativa, quindi intorno tra aprile e maggio, vedrà tutti i partecipanti a questo workshop misurarsi ad un tema di innovazione legato al design. Questo progetto chiamato Keramos, proprio per ricordare il dio della ceramica, è stato portato avanti perché riteniamo che Gela si debba riappropriare della propria identità culturale e artistica. Gela è stata l'inizio della ceramica in Sicilia, altre città ne hanno fatto la fortuna, noi ora proviamo a recuperare, a riprenderci la nostra identità facendo ceramica, tenendo d'occhio tutto quello che è stato fatto nei periodi precedenti, a partire dal mondo greco e passando attraverso il periodo medievale, per arrivare appunto a fare impresa. Penso che abbiamo trovato la sinergia, forse della magia della ceramica, penso che insieme possiamo sviluppare, prima sviluppare una ceramica moderna di Gela e anche trovare la tecnica antica di come si faceva questa ceramica greca. Si terrà domenica, 20 dicembre prossimo, in piazza Umberto I a Gela, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30 il mercatino solidale natalizio. L'iniziativa tende a sensibilizzare tutta la cittadinanza, a dare uno sguardo verso i meno fortunati. È un mercatino dove sarà possibile portare giocattoli, indumenti non più utilizzati, genere alimentari, libri per donarli a chi in questo momento ne ha più bisogno. All'iniziativa ha anche aderito l'Associazione Culturale di Disegni e di Sogni di Elisa e Gianni che intratterrà grandi e piccoli con il gioco dell'oca gigante direttamente da pop-up, festival dei giochi e dei balocchi per tutti i partecipanti. Ci saranno poi gadget e premi. Concerto di Natale all'Istituto Ettore Romagnoli di Gela, diretto da Sandra Scicolone, protagonisti, gli studenti che compongono l'orchestra e il coro della scuola. Sentiamo. Concerto di Natale alla Scuola Media Ettore Romagnoli di Gela, ad eseguire i brani, l'orchestra e il coro dello stesso istituto scolastico, diretti dal professore Daniele Mammano e curati dai docenti del Dipartimento di Strumento, Mammano, Larriva e Danca. Ai nostri microfoni il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Questo è il ventiduesimo anno che la Scuola Romagnoli organizza il concerto di Natale. Quando sono arrivata in questa scuola, era il mio primo anno di dirigenza, festeggiavamo il ventennale. Adesso sono passati tre anni e è qualcosa di emozionante vedere i nostri ragazzi, i ragazzi dell'ensemble, i ragazzi del coro, del corso di indirizzo musicale esibirsi. Anche per questa festività rappresenta veramente un momento straordinario di unione, solidarietà e raccoglimento della comunità scolastica. Mi preme sottolineare come quest'anno per la prima volta anche i ragazzi che si sono accostati da pochi mesi all'apprendimento dello strumento, oggi si esibiranno. Quindi significa che anche in pochi mesi i docenti del nostro dipartimento di strumento si sono dati veramente da fare e hanno voluto veramente mettere alla prova questi ragazzi. Noi sentiamo questo non solo come un momento di attività di attività, ma proprio un momento in cui ci raccogliamo, naturalmente raccogliamo anche i frutti del lavoro dei ragazzi, il lavoro dei professori e sentiamo che siamo una comunità molto forte, molto coesa, soprattutto in momenti così delicati per la vita collettiva. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati studio per la seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito parlando di sport. Ci occupiamo di tennis, si è svolto qualche giorno fa un torneo davvero particolare, siamo andati a vedere. Un appuntamento sportivo che ha rispettato le attese e ha richiamato la partecipazione di numerosi spettatori. Stiamo parlando del torneo di tennis diritti e rovesci promosso dagli avvocati del Foro di Gela che si è svolto all'Eschilo Tennis Club presieduto da Raffaele Giudice a Macchitella. Gli avvocati gelesi, dopo le tante battaglie giudiziarie in aula, si sono ritrovate assieme nel segno dello sport. Nella finale del Girone B l'avvocato Giovanni Brucia ha battuto il suo omologo Antonio Gagliano. Nell'altro cartellone, Orazio Rinelli, ha superato Emanuele Maganucco. Ma quello che contava era stare insieme e l'obiettivo è stato raggiunto. Molti avvocati di Gela si sono ritrovati in questo torneo organizzato impeccabilmente dal circolo di Raffaele Giudice e della signora Timpanaro con grande entusiasmo, con spirito di amicizia. Ci siamo tutti divertiti. Credo che questo torneo lo dimenticherò difficilmente perché questo è il primo torneo che abbiamo organizzato da quant'è che siamo aperti. Ce ne saranno altre, anche perché questa è una struttura che è stata affiliata alla Federazione Italiana Tennis a tutti gli effetti, quindi oltre a questo torneo splendido ci saranno poi dei tornei ufficiali organizzati dalla federazione. Le regole del tennis sono un pochino complicate. Cominciare dall'inizio sarebbe impossibile perché sono tantissimi e poi i giocatori sanno già, bene o male, quali sono e come dover discutere. Qua abbiamo fatto un po' una variante delle regole perché siccome era un torneo proprio amatoriale abbiamo fatto in maniera tale che non si prolungasse molto. Nel tennis è difficile che nel corso della partita vinca chi è stato meno bravo, quindi oggi onore al merito perché Orazio è stato decisamente più bravo e ha vinto meritatamente una partita molto combattuta con il risultato 6-4-6-4 che effettivamente la dice lunga sul fatto che sia stata combattuta ma certamente Orazio ha meritato, non ha rubato nulla e è stato per alcuni tratti, oltre che essere bravo, anche molto corretto. È stata una partita bella, combattuta, è durata tanto e quindi ciò dimostra che è stata lottata punto a punto. Manuele è molto bravo e quindi non era facile spuntarla, poteva spuntarla a lui. Stavolta ho vinto io, alla prossima avrà l'occasione di farlo, ma alla prossima ci saranno tanti colleghi, tanti giovani colleghi che hanno partecipato e che si sono firmati un po' prima ma credo che ci daranno un filo da torcere sia a lui che a me. Alla fine della manifestazione sono stati consegnati premi e riconoscimenti a tutti i partecipanti appuntamento all'anno prossimo tra un diritto ed un rovescio. Si svolgerà domenica 20 dicembre prossimo alle 9 la camminata per la pace in memoria di tutti i gelesi che sono morti per patologie tumorali con partenza da Piazza della Pace al lungomare est di Macchitella con destinazione all'altipiano del parco di Montelungo e l'iniziativa organizzata dal Comitato Camminatori Gelesi appassionati di uno sport amatoriale a metà tra la podistica e la camminata nato negli Stati Uniti nella metà degli anni 90 è arrivato anche in Italia. Il gruppo composto da ex atleti roadrunner tra cui Carmelo Ascia, Silvio Lisciandra dell'Associazione Corsa per la Vita, Giuseppe Migliore candidato a consigliere comunale di un'altra Gela e l'ex deputato del Partito Democratico Lillo Speziale si riunisce ogni domenica con percorsi che vanno dai 14 ai 20 chilometri in città e nelle zone limitrofe come Piazza Armerina, la riserva della Gobiviere, la diga di Sueri il Raffo Rosso e il parco della diga Comunelli uno sport che come tutte le attività fisiche porta con sé molti benefici fisici tra cui il tenere lontano anche le malattie cardiovascolari all'aspetto salutare e alla passione si aggiunge adesso anche il ricordo di quanti non ci sono più a causa del tumore l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Divina Misericordia lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il centro d'accoglienza Santa Lucia inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali seconda mostra di presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco Gela si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 l'inaugurazione è prevista per sabato 19 dicembre alle ore 18 continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela oggi concerto di Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi prossimi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo spettacolo 15 euro il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi vita di Gesù di Francesco buon vissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo 2016 dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo comunicano i padri agostiniani siamo all'informazione cinematografica al Cineteatro Antidoto da oggi è in arrivo il nuovo film Babbo Natale non viene da nord questi sono gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17 e 30 19 e 30 21 e 30 lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabrisco la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia affidata a Giancarlo Bella me ne termina qui il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi vi ricordiamo che notizie e servizi approfondimenti sono reperibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti